Dovrà essere Caltacqua a rifornire gli utenti che lo chiederanno in attesa che vengano realizzati sistemi per la fornitura idrica in zone non ancora coperte. Lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha firmato un'apposita ordinanza indirizzata al gruppo Italo Spagnolo che gestisce il servizio idrico integrato in provincia. Dal 2006 il servizio idrico integrato è stato passato al lato idrico e di conseguenza a Caltacqua che gestisce in toto. Però stranamente alcuni rimasugli sono rimasti in modo del tutto inopportuno all'amministrazione come il trasporto delle autobotti. Questo servizio che fa parte della distribuzione dell'acqua deve essere preso da colui che ha preso l'appalto per la gestione del servizio idrico. Anche perché dal momento in cui è stato preso posso capire che in una fase di transizione, ovvero sia che entro il 2008 devono essere realizzate tutte le reti, magari poteva anche essere un passaggio per evitare dei problemi alla collettività. Ma di fatto siamo nel 2016, siamo passati quasi dieci anni ma le reti non ci sono e l'amministrazione ha continuato fino ad oggi a fare un servizio in perdita. I cittadini a chi pagavano? A chi pagavano l'acqua? Fino ad oggi pagavano 25 euro i residenti e 35 euro i non residenti, considerando che per ogni autobotte l'amministrazione pagava più di 35 euro solo a Caltacqua per l'acqua. Quindi al comune, pagavano al comune i cittadini? Pagavano soltanto una piccola somma che non copriva completamente i costi, perché non riusciva a coprire nemmeno il costo dell'acqua stesso. L'amministrazione ogni anno perdeva più di 250 mila euro per quanto riguarda questo tipo di servizio. Quindi un esborso di denaro che di fatto non agevolava i residenti che poteva essere investito per fare le reti idriche. Da oggi chiedo a tutti i cittadini di non fare più versamenti perché non verranno più recapitate dell'acqua, perché non si può fare un servizio a perdita. È stata notificata un'ordinanza dove il servizio dove manca la rete deve essere garantito ugualmente. Di conseguenza Caltacqua deve fare quello che c'è nel contratto, ovvero sia garantire servizio idrico e quindi tutte le azioni in merito, o con rete o senza la rete idrica.